Con mio padre e mio fratello abbiamo preso questa attività di piegare il legno massiccio e da lì ci siamo innamorati un po' del legno, quindi noi il legno lo rispettiamo molto e quindi dando queste forme un po' particolari, vi dicendo, otteniamo dei risultati che per noi vengono quasi spontanei. Diamo rispetto all'ambiente, nel senso che non andiamo a sprecare del materiale nobile per fare una struttura, quindi utilizziamo delle conifere internamente della bette o pino che sia e viene ricoperto con un legno nobile. Spaziamo sia nell'arredamento con le grosse firme nel settore del mobile come curvatura del legno massiccio e anche con il lamellare nelle aziende nel settore dell'arredo giardino. Allora questo è praticamente un oggetto nuovo che abbiamo presentato quest'anno, una nuova collezione con un nuovo architetto, un designer, Leonardo Perugi, un ragazzo giovane di Firenze e quale si è presentato da noi con questa nuova linea un po' spiritosa, un po' diversa, semplice, non dalle cose troppo sofisticate, perché la gente ormai secondo noi ha bisogno delle cose che siano un po' belle di gusto, ecologiche soprattutto, fatte in Italia come noi che produciamo tutto noi all'interno dell'azienda e che siano molto semplici. Ad esempio la caratteristica di questo oggetto è che proprio è un paravento che si può ripiegare, quindi uno può usarlo per un servo, per una serata, quello che possa essere, lo ripiega e lo ripone dove vuole, perché occupa uno spazio di 60 centimetri quando è chiuso.